Nella mattinata del 2 gennaio un 48enne si è recato al punto di pubblico soccorso della misricordia di Borgamozzano, accusando un dolore al petto. Da lì a poco l'uomo è andato in arresto cardiaco e solo grazie all'intervento dei volontari e del medico che ha effettuato due defibrillazioni, il cuore è ripreso a battere. Il 48enne è stato poi trasportato in elicottero all'Opa di Massa, un episodio che mette in evidenza l'importanza di questi punti di soccorso sul territorio. Come a Borgamozzano, così come a Piazza al Serchio, esistono questi punti di primo soccorso con il medico presente, il medico che sta nelle sedi o sulle ambulanze e sono presidi importantissimi nelle zone decentrate dove non esiste l'ospedale. E quindi questa è una situazione che deve continuare perché credo che dia più tranquillità e sicurezza ai cittadini. Poi c'è il problema della cultura della defibrillazione e quindi tutta la rete che le associazioni di volontariato hanno creato nei vari paesi installando defibrillatori permette di salvare vite umane se si sanno usare i defibrillatori. Com'è successo questa mattina? Com'è successo questa mattina? Qui era presente anche il medico, quindi la competenza anche del medico dava ancora più sicurezza, però i volontari sono riusciti a salvare una vita alla seconda defibrillazione. A luglio, al festival della birra, i nostri volontari salvarono una vita.